Buon pomeriggio! Si inizia una nuova settimana all'interno dell'eredità. Bentornati con noi. Come sempre 18.50, attimo più, attimo meno, con le mie professoresse. Finalmente siete in quattro. Benedetta! Buonasera a tutti! Enrica! Buonasera! La malaticcia che è tornata, Cristina. Buonasera a tutti, ciao! Sei guarita? Stai bene? Sì, mi siete mancati tutti. No, volevo dire... Ho ancora qualche bacillo addosso. Ecco, ma... Parla verso Serena, vai! E poi Serena e poi Serena. Buonasera! Cristina è tornata soprattutto per un motivo, perché oggi è il compleanno di Benedetta! Benedetta! Buon compleanno, Benny! Vatti, dà un bacio! Auguri, auguri, auguri per i tuoi 32 anni! Bravamente! Eh, brava! Però riporta bene, devo dire riporta bene, vero? Sì, sì, sì! Benissimo, benissimo! A chi dedichi questi tuoi 32 anni? Alla mia famiglia! Brava, brava! Com'è carruzza! Poi? Poi alle mie amiche! No, poi? A Carlo, chiaramente! Ah, ecco, ecco, volevo vedere, volevo vedere in quale posizione metto! E alle ragazze, ovviamente, a tutti noi! La famiglia è anche la grande squadra dell'eredità, andiamo a iniziare la gara di oggi con i nostri concorrenti! Applausi!